Per il settore del commercio e turismo in Sardegna, il 2016 sta segnando una svolta positiva dopo anni di crisi e quanto emerge da uno studio della Conf Commercio Sardegna che ha elaborato i numeri sulla nata immortalità delle imprese sulla base dei dati di Union Camere. Nei primi nove mesi dell'anno il numero di imprese del settore iscritte alle Camere di Commercio Sardegna è cresciuto di 887 unità e il risultato di 2.172 iscrizioni e 1.285 cessazioni. Il caso di crescita nei primi nove mesi dell'anno è dello 0,53% su un totale di 168.264 imprese registrate. Secondo l'Ufficio Studi dell'Associazione, il 50% della crescita del comparto va ascritta alla dinamicità di tre settori il turismo con 217 imprese, il commercio con 187 imprese e i servizi con 31. Anche l'industria delle costruzioni con un più 43 hanno lanciato segnali positivi. Per quanto riguarda la tipologia di aziende, quelle in maggior crescita sono le ditte individuali, seguite dalle società di persone e dalle società di capitali. La miglior performance su base provinciale l'ha fatta segnare Nuoro con un saldo positivo di 305 imprese e un tasso di crescita dell'1,1%, a seguire Sassari con 277 aziende, Cagliari con 224 e Oristano con 81. La vivacità del terziario è un fatto positivo e testimonia come gli imprenditori siano maggiormente stimolati ad investire, realizzando nuove imprese proprio nei momenti di maggior crisi, ha commentato il Presidente della ConfCommercio Sardegna, Alberto Bertolotti. E' tuttavia altrettanto importante valutare quanto le nuove imprese siano capaci di stare sul mercato, che è agguerrito e fortemente competitivo. Ecco allora che la parola d'ordine deve essere quella di superare il Digital Divide, il vero gap che affrena le nostre imprese rendendole deboli e spesso incapaci di stare al passo. Grazie a tutti.